C'è rammarico per come è venuto questo pareggio, anche perché eravamo sul doppio vantaggio e quindi c'erano tutte le condizioni per portare a casa questi tre punti. Considerando pure che abbiamo preso la traversa sia nel primo che nel secondo tempo, la squadra avrebbe dovuto portare a casa questa vittoria, mantenere questa vittoria. È normale che c'è anche la squadra avversaria in campo, la quale sicuramente non ha demeritato, anzi ha lottato fino alla fine per ottenere questi tre punti. C'è rammarico, devo dire sinceramente il rammarico più grande, oltre all'epilogo, a questo 2-2, è dettato sinceramente dalla terna arbitrale, perché non è possibile comunque che vengano questi scambi da fuori regione per poter combinare questo scempio. Io quello che dico, ho sentito anche gli altri amici qua di Paola, ma quando entrambe le squadre, al di là dell'episodio, sono scontente della direzione arbitrale, della conduzione della direzione arbitrale, allora un motivo ci deve essere. Sono molto dispiaciuto oggi per la partita che abbiamo pareggiato, perché meritavamo assolutamente di vincere. Per due ingenuità nostre purtroppo abbiamo preso due gol che non ci volevano, avevamo il doppio vantaggio, come hai detto bene tu, dovevamo gestirla meglio la partita, perché eravamo in controllo, non è che ci sono state grosse occasioni, qualche occasione l'abbiamo avuta anzi noi in contropiede, però per due ingenuità che non dobbiamo commettere assolutamente, perché a volte la palla bisogna anche mandarla in tribuna, quando c'è da mandarla in tribuna. Devo essere contento per la reazione che ha avuto il secondo tempo la squadra, perché andare poi sotto di 2-0 contro una squadra che il primo tempo ci ha messo sotto non era facile, però ho visto una squadra determinata, vogliosa di riacciuffare il risultato e farci complimenti ai miei ragazzi. Peccato perché poteva essere un altro tipo di partita, visto l'arbitraggio un po' che non si è capito se era l'inglese, faceva molto correre sui falli, ma falli proprio evidenti che non fischiava, sia da parte nostra che da parte loro.